Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo episodio di Dubai Talks. Una playlist di interviste con professionisti e imprenditori italiani a Dubai in cui ci raccontano le loro storie, i loro successi, le difficoltà che hanno incontrato, i consigli che possono aiutarvi a realizzare i vostri sogni, oppure chi lo sa magari a cambiare vita e forse in una città proprio come Dubai. Io avevo un'azienda, ho chiuso tutto. La competizione è altissima, le ville comprate a 2 milioni di lira oggi valgono 6 e mezzo. Però tu da residente italiano dovresti dichiarare. E quello è il momento in cui si compra, non per forza al lancio. Per chi si trovasse qui per la prima volta, io sono Marianna, vivo a Dubai dal 2014 e sul mio canale vi racconto questa città al di là delle apparenze. Oggi ragazzi puntata speciale, non ho un ospite, bensì per la prima volta ne ho due e ve li presento subito. Benvenuti Riccardo e benvenuta Ilona. Ciao, grazie Marianna. Grazie Emilia. Ora ci dicono subito come mai sono in due, ma prima di tutto piccolo spoiler. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, me l'hanno chiesto in tanti di trattarlo. È un argomento scottante e ne parleremo senza filtri e senza censura. Siamo pronti. Noi siamo in due perché siamo marito e moglie. La nostra agenzia si chiama Corsa e l'abbiamo aperta poco più di un anno fa. Noi siamo a Dubai da due anni e mezzo quasi. Prima di venire qua eravamo a Milano, dieci anni. Anche se io sono originario dalla Sicilia. Io sono russa. E parla benissimo italiano. E ha avuto un ottimo maestro, come dico sempre. A Dubai la prima volta, se non ricordo male, era il 2018. È vacanza. Non so chi ce l'ha consigliata. No, ma giusto così per dire andiamo, scopriamo un posto nuovo. Andiamo a vedere com'è. Esatto. Dalla prima volta che siamo venuti la bambina era piccolissima, neanche un anno. E eravamo in mezzo, non lo so, vai a downtown. Era la prima volta, no? Le fontane, queste cose scenografiche, no? E avevamo New York come... Metro di Paragone. Metro di Paragone, perché c'eravamo stati in Luna di Miera quattro anni prima. Ok. Quindi siamo da dieci anni ormai. E ci siamo innamorati di New York. Però Dubai... Cosa ti ha colpito? Multiculturalità. Tutto acceso sempre. Sì. Tutti i servizi operativi. Sì. Dopo l'Italia eravamo scioccati. Eh, è vero. Perché da noi, noi vivevamo proprio a Milano, e domenica trovare una farmacia... A Milano? Sì, a Milano. Sì. Quindi c'è una farmacia per tre quartiere. Qua tutta H24. Eravamo anche scioccati, mi ricordo che parrucchiere H24. Questo era scioccante per noi. Sì, sì. E tu sei andato a Paragone. Sì, sì, ho fatto un taglio a mezzanotte. No, roba proprio stupida, no? Banale. Però poi non la dai per scontato in altri posti. In altri posti non è così. Vero. Quindi vedere tutta questa energia. gente che lavora a qualunque ora. Abbiamo intuito questa grandissima energia. L'abbiamo proprio sentita sul nostro corpo, sulla mente. Proprio ci ha colpito. Allora, primo viaggio, bellissimo. Secondo viaggio, poco prima del Covid. Terzo viaggio, durante il Covid. Dopo il terzo viaggio abbiamo detto, dobbiamo trovare il modo di trasferirci qua. Io avevo un'azienda di rivendita auto. E da tanti anni ormai. Ho chiuso tutto. Ho chiuso. Ero stanco. I motivi che devo immaginare, no? È tutto reso più difficile dal sistema paese, no? Quel poco che ti rimane, 50 e 50. Dopo il Covid ha dato una bella botta. Immagino. Perché io adoro le auto. La mia passione principale è quella anche adesso. Però le difficoltà sinceramente ci hanno fatto pensare che probabilmente non è il caso di aspettare un ritorno dei numeri a quelli che erano prima del Covid. In più avevamo conosciuto questo posto e ci siamo detti, ok, trasferiamoci. Facciamo un viaggio solo andata. La bimba era ancora piccola. E abbiamo fatto così. Viaggio solo andata, zero connection, in un mercato per noi nuovissimo, mai fatto immobiliare, sinceramente. Però siete partiti con l'idea di buttarvi nell'immobiliare a Dubai. Esatto. Esatto. Abbiamo usato una strategia. Nel primo viaggio quando guardavamo queste pubblicità, tutto immobiliare, costruiscono, vedi un sacco di lavoratori in giro, tutto un cantiere aperto, diciamo. Quindi uno rimane scioccato. Cosa sta succedendo? Tu senti questo movimento e ti chiedi come mai cosa sta succedendo qua. Mi ricordo che siamo andati anche a vedere il developer, giusto per capire meglio, perché pensavamo anche di prendere per noi l'appartamento come investimento. Sì, sì, sì. E mi ricordo che siamo andati da Shoba, abbiamo fatto un giro lì in District 1. Abbiamo iniziato appositamente in due agenzie grosse. Esatto, volevo arrivare lì. E non italiane. Non italiane, sì. E non russe. Cioè abbiamo scelto proprio, volevamo scegliere... Fuori dalla zona di comfort. Esatto. Bravi, bravi. Avevamo management british. Infatti le prime settimane tornavi a casa con mal di testa, perché il nostro inglese era abbastanza nella media. Sì, sì, sì. Se non eravamo bravissimi, ma neanche... Certo. Cioè, un po'. No, però viaggiavamo, usavamo spesso, quindi eravamo scioccati, sinceramente. Però pensavamo di saperlo un po' a un alto livello. E invece... Invece no. Poi, non potendo usare l'italiano, ma dovendo usare solo l'inglese. Certo. H24. Mentre il giorno prima eravamo a Milano. Dopo una settimana inizi a lavorare. Io sono andato in FAM. È una grossa azienda, si può dire il nome. Tanto LinkedIn non lo puoi controllare. Esatto, sì, sì. E l'ho andata in Provident, un'altra bellissima azienda. Ne possiamo parlare solo un gran bene. E abbiamo fatto la nostra scuola. E siamo stati poco più di un anno, facendo proprietà pronte. Ready market, secondary market, che poi consideriamo essere lo zoccolo duro del mercato. Perché è vero che c'è tanto off-plan, però devi imparare il lavoro. Probabilmente sono due lavori molto diversi. Sì. Noi crediamo che se impari il secondary puoi fare anche off-plan. Esatto. Viceversa, un passaggio un po' più. Ok. C'è anche meglio il market. Perché quelli che comunque vendono off-plan, loro vedono solo cifre. Sì. Invece quando parti dal secondary tu vai a vedere i property, come sono, cose c'è che non va. Perché spesso vediamo anche bei progetti che non si vendono. O c'è qualcosa che non funziona. Quando vai lì capisci perché. È stata una bella esperienza, devo dire. Bella esperienza, sì. L'obiettivo finale era quello di aprire l'azienda. Esatto. Però un anno, se dovessi dire a uno che domani si trasferisce per fare questo mestiere. Sì. Io consiglierei come minimo un anno, ma anche due. Stai in un'azienda grande, con 100, 200, 400 colleghi, dove hai un sales manager, hai comunque un flusso di lavoro con delle routine, impari a usare un CRM, impari a fare una chiamata a freddo, che vanno fatte nel nostro lavoro. E la parte negativa, se vogliamo, del lavoro, perché anche da proprietario di casa tu ne riceverai tante, no? Sì. Ok. Ogni giorno. Lì, se capisci come anche si cercano i clienti, che poi magari ti danno un listing, perché se non hai listing, non puoi essere contattato, non puoi fare i viewing, non puoi vendere, giusto? È tutto un flusso di lavoro. È certo. Ma se impari le basi in un'azienda strutturata, che ha i suoi pros e i suoi contro, non sono perfette, poi puoi pensare di investire nella tua, che comunque prevede un passo abbastanza forte, perché è completamente diverso. Cioè non fai più solo quel lavoro. È certo. Gestisci un'azienda. Gestisci un'azienda, in più fai pure la vendita, gli altri clienti. Esatto. Perché già ne abbiamo generato. E gestisci anche chi lavora con te. Esatto, esatto. Al momento abbiamo un team di quattro persone. Spero di rifare presto un altro appuntamento magari con te, dove ti dirò che siamo 14. Sì, sì, sì. Spero tanto. Te lo auguro, ve lo auguro, ragazzi. Stiamo cercando di crescere. Però per adesso facciamo tutto in prima persona. Certo. Quindi tutta la parte, diciamo, più admin, siamo noi. Parte commerciale, siamo noi. HR, siamo noi. E quindi capisci bene che comunque il tempo a disposizione è quello. Sì. Devi cercare di crescere passo dopo passo. Ora la domanda che io vi voglio fare è, visto che avete avuto il coraggio, l'idea, chiamiamola come vogliamo, di aprire la vostra agenzia, come vedete ad oggi, no, nel 2024, il mercato immobiliare di Dubai. Perché se ne è parlato tanto, c'è anche chi dice, ah, ormai abbiamo perso il treno, è troppo tardi. Invece mi immagino che se avete aperto la vostra agenzia, voi non la pensiate così. Io inizierei col dire che la competizione è altissima. Se la competizione è altissima è perché la città è attrattiva. Gli agenti, se tu controlli la rest app, che tu sai cos'è, è l'app ufficiale del governo, il DLD. Adesso siamo a 19.800 qualcosa, ma non è tanto 19.800, uno dice ok, la città è grande, 3.700.000, no, come residente attuale. Quindi 19.800 ci può stare. Sei mesi fa 17.000, quindi questa crescita, c'è 2.800.000 in più, in sei mesi, si sente, non lo sentiamo. È vero che ci sono tanti progetti, lanci, però i landlord, i proprietari di casa sono tartassati. Io credo che arriveranno regolamentazioni più stringenti, anche per limitare un po' i contatti commerciali, eccetera, perché poi siamo tartassati anche da carte di credito. Ti chiamano per la qualunque, potrebbero anche fare un WhatsApp, ti chiamano. Adesso fanno anche WhatsApp. Ecco, e quindi il mercato di Dubai ti dico, io lo vedo fortissimo. Molti clienti che non conoscono la città mi dicono, eh ma Dubai è troppo cara, ormai i prezzi sono così alti che... Io rispondo, dipende. Cioè, d'accordo, tu conosci, sei qua a 10 anni. Sì. È chiaro che se compri Marina o Downtown o Palma, che sono posti molto maturi, location premium, dove i prezzi vanno da 6.000 a 10.000 euro al metro quadro, nella media, eh, ci sono quelli a 5, a 15, normale, è chiaro che sono posti in cui i prezzi a metro quadro sono saliti negli ultimi 2, 3, 4 anni, poi Rusti, Ucraina, quello che è successo, sono sparati, tipo Blue Waters ha fatto per due. Certo. Però, tolte le eccezioni strane, in Downtown e Marina non ti puoi aspettare di fare una crescita a doppia cifra. Sono eccezioni, questo è quello che noi vediamo tutti i giorni. Però, se tu come obiettivo hai di fare o un flipping, e ci vuole il suo tempo, non è sei mesi, o un investimento per fare uno short term, non è detto che devi comprare per forza in Downtown e Marina. Ci sono altre aree dove il mercato è molto, molto più, diciamo, soggetto a rivalutazioni, perché sono aree in espansione. Però le persone vedono, cioè, come un discorso più sicuro, Marina o Downtown, come se fosse non esiste più niente. È vero. Già quando i miei clienti lo dico, Dubai Hills lo conoscete che è una community meravigliosa, dove che cos'è? Certo. Cioè, non conoscono neanche Dubai Hills, che è ormai centro. Se vogliamo proporre al Forgiano, qualche altra zona, è proprio per loro come se fosse... Fuori dal mondo. Esatto. Sì, 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 in mezzo al deserto. Quindi non credono. Sì, perché poi sì, di fatto Dubai non ha un solo centro. No, assolutamente. Vero, è vero. Non è come in Italia, che abbiamo il centro storico, poi più ti allontani, meno vale, diciamo, l'investimento. Quindi sicuramente il mio consiglio è sempre di affidarsi a qualcuno di affidabile. Un agente immobiliare o un consulente affidabile, perché comunque ormai si sa anche un'altra cosa. Inutile girarci intorno. Ci sono stati anche agenti immobiliari che, ovviamente, targetizzano una parola italiana, non lo so. Comunque, si focalizzano sul mercato italiano di investitori che vogliono investire a Dubai. Ed è successo negli anni che gli abbiano propinato qualsiasi tipo di progetto, anche progetti in zone davvero nel deserto, che, senza neanche fare i nomi dei progetti, perché non vogliamo parlare male neanche dei developer, però sono progetti che non sono diventati quello che dovevano diventare. Quindi sicuramente, da una parte, capisco, no, l'italiano che dice, ah, voglio investire solo a marino o solo a downtown, perché magari lì sanno che cascano in piedi, purtroppo... Senti più sicuro. Sì, è vero. Però anche in marino e downtown ci sono torri, che chi vive qua le conosce, più o meno le sente dire, anche se non è nel mercato, come lavoro. Però ci sono torri anche da evitare, che hanno qualche problema, perché mediamente la qualità delle costruzioni non è come in Europa. Vero. Adesso noi notiamo che la qualità ha comunque preso una bella piega. Sta migliorando, sì. Sì, sì, sì. Però mediamente le torri consegnate 8-10 anni fa non è detto che fossero tutte carine, né come finiture, né come proprio strutturalmente. L'aria condizionata, il chiller, piuttosto che le tubazioni dell'acqua, o, non lo so, il sistema elettrico, oppure l'insonorizzazione. Sono tutte cose che comunque una volta che ce l'hai e non hai fatto le tue ricerche, o non ti sei affidato a qualcuno che magari era lì e conosceva la sua area bene, sono delle cose che ormai sono tue, le hai comprate, quindi tu o le rivendi al miglior prezzo possibile, aspettando il mercato che va su, oppure le affitti, però non ci vivi tu. Ma se era per te... Sì, però alla fine la prima cosa che dobbiamo guardare è il developer. Esatto, esatto. Anche se io, adesso tranquillamente le persone comprano anche l'area molto lontana, se il developer è buono, perché ormai anche master developer come Ellington, come Imar, come Meras, lanciano progetti in mezzo al deserto, diciamo. È vero. Che presto non sarà più deserto, ma sarà una nuova città. Sì, 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 l'ultimo che abbiamo visto, io Dio, è da Meras, è da Yacres, non so se l'hai sentito, Yacres. Sì, sì, sì. Comunque è una community di villa e townhouse. Comunque è intorno al Global Village, dietro. Non è vicinissimo, se consideriamo la costa come, diciamo, un metro di, no? Se ci arrivi da downtown, devi fare 35 minuti se non c'è traffico strano. Sì. Quindi non ore di punta. Sì, sì. Perché è più lontano di Arabia Ranges. Però se io parlo con colleghi che sono qua da dieci anni nell'immobiliare, e io ancora non sapevo cosa fosse Dubai dieci anni fa, e dico Arabia Ranges, loro mi dicevano che quando hanno lanciato il 2008 l'Arabbeges 1, Mar, che è il numero uno assieme a Meras, tutti dicevano ma dove va? Nel deserto? Non si rivaluterà mai. Invece villa è comprata a due milioni di dirame in quell'anno, oggi valgono sei e mezzo. Vero. L'hanno fatto per tre. Quindi è tutto relativo a Dubai. E adesso è una bellissima community, una del top, se vuoi una villa. Bellissima, sì, sì. Bellissima, c'è tanto verde. Almeno a Rabia Ranges 1, che è le mille più grandi, più classiche, eccetera, c'è un sacco di verde. Sì, è vero, sono molto belle. Certo, non è Jumeirah Golf Estates, è un altro livello. Ah, anche il prezzo però, anche il prezzo è molto diverso. Però ecco, Dubai ti mostro sempre. Però ecco, EMAR, stiamo parlando di EMAR, per chi non sa chi è EMAR, è uno dei più grandi de velo, poi è legato al governo, no? Sì, sì. È fondamentalmente. Assolutamente, famiglia dello Sheikh, loro hanno i capitali dentro, così come Dubai Holding con Meras e Nachil. Eh, esatto. Quando tu senti questi tre nomi, EMAR, Meras e Nachil, alcuni progetti possono piacere o meno. Anche io personalmente preferisco alcuni, altri non li offro. Però sei tranquillo. Vai sul sicuro. Sì, intanto che li completano più o meno nei tempi previsti. A volte qualche ritardo lo fanno anche loro, non è così semplice fare la consegna quando dico nell'SPA e nel contratto. È vero. Però intanto ho la certezza che te lo consegnano, che oggi, come oggi c'è, te lo consegnano. E due, hanno comunque i plot nelle loro location migliori, perché semplicemente sono loro che li vendono agli altri. Esatto. È vero. Se li sono tenuti i plot migliori. C'è ancora qualcuno in giro, eh? In qualche zona di Dubai. Comunque tutto appartiene a Dubai Holden. Eh sì. E poi loro vendono quello che non gli serve, diciamo, gli altri developer. Ad esempio conosci Dubai Harbor, quindi tutta la zona di Beachfront, no? Tu sai che c'è la zona di Beachfront, che proprio chiamano Beachfront. Sì. Dove ci sono tutte queste palazzine solo e mar. E mar, sì. Pensa che quando io vivevo a Princess Tower, lì, io ero sulla costa, avevo vista mare, non c'era niente. Non esisteva. Pazzesco. Cosa cambia in pochissimi anni. Sì. Ma adesso tutta la parte che è dove fanno il boat show ogni anno, quindi tutta la parte che ti porta in Beachfront, quella strada, adesso sai che ci sono progetti di Damak, ci sono progetti di Shoba. Eh sì. E adesso ho lanciato anche Arada, che è un altro brand importante. Certo, Arada sì. Però non era mai venuto a Dubai. Sì. È recentissimo che è arrivato a Dubai. Aveva sempre fatto delle cose altrove. Sì, sì. Ok. Quindi ti dico, noi anche nelle zone super premium vediamo un grandissimo movimento. I prezzi sono importanti perché lanciano prezzi veramente impegnativi, però anche lì non è detto che fra qualche anno i prezzi non possono andare su. Sì, perché ovviamente le terre vicino al mare stanno finendo. È vero. Quindi adesso stanno allargando già altre zone, ma quelle che già ci sono, come Harbor, come Marina, Palma, non ci sono i plot. Eh no. Sono rimasti pochissimi, tipo... Cioè noi, ti dico, da persone che operano H24, no? Sul mercato, persone che vogliono studiare, capire sempre di più, per offrire più qualità possibile poi al cliente, no? Così il cliente è contento, torna da te, ti manda i referral, perché poi è così che stiamo crescendo. Certo. Non con la lead generation su internet. Lavorando bene. Sì, perché poi lo sappiamo che è così, no? Facciamo il nostro meglio, però io stesso, quando hanno lanciato Palm Jebel Ali, pochi mesi fa, le ville da 18 milioni, io non credevo che finissero in un'ora. No, dai, Jebel Ali, quasi a Abu Dhabi, quasi al confine con... Tu ci credi? Allora, adesso di più rispetto a quando l'hanno lanciata, perché credo che comunque, visto che c'è una richiesta, da quelli che chiamano UHNWE, Casi, sarebbero gli ultrai network individual, le persone che hanno più di 10 milioni di dollari di patrimonio. Ma c'è una forte richiesta a Dubai da queste persone, a livello internazionale, e i dati, se vai un po' a scovare in giro su internet, dicono che Dubai non riesce a stare al passo con la richiesta da parte di persone che vogliono investire in ultra luxury. E quindi un prodotto come la villa, pure se Jebel Ali, Palm, fa sold out in un'ora ed erano più di 100. Coda di agenti a prendere un ticket, nessuno ha preso niente perché erano già piazzati, no? Sì, ma tanto noi sappiamo che adesso Dubai si sta allargando verso Abu Dhabi, quindi ci sono un sacco di progetti che hanno lanciato e sono andati in master developer. Già a master developer come Imar, come Miras, e lancia i community interi enormi da 2000 vill, ci dice qualcosa. È un segno che stanno allargando, stanno investendo un sacco di soldi, poi anche il rapporto, che sarà più grande per il mondo. Il Mactoom, sì, sì. Si sposterà l'aeroporto da dove è ora all'altro, che già c'è però, devono spostare tutte le operazioni. Sì, sì, sarà un progetto un po' a lungo, penso che... Hanno detto una decina d'anni per l'aeroporto, però sicuramente lì intorno, tra l'altro, ci sono tantissime zone che ancora sono fondamentalmente deserto. Vero, vero. Quindi lì ce n'è di spazio per costruire. Se tu pensi a qua dieci anni, già sai che è lì. Sì, se penso a cosa ho visto io in dieci anni, dico, beh, in dieci anni, perché to me ci sarà un bel po' di differenza. E poi, vedi, stanno andando sia verso Abu Dhabi, con questi progetti, c'è Jebel Ali East, Jebel Ali Downtown, c'è Al-Furjan, però stanno andando anche verso Sharjah, verso Deira. Perché, ad esempio, le Dubai Islands, che si chiamavano Deira Islands, le hanno riprese, super lanciatissime. Oppure Portrashit, di cos'è? In Maritime City. Maritime City. E quindi, visto che stiamo parlando di aree, se adesso qualcuno ci sta guardando e dice, ok, questi ragazzi mi fido, adesso chiedo consiglio. Dove gli consigliate di investire? In quali aree? Quali sì, quali no? Dunque, domande sempre poco semplici. Esatto. Allora, no, facciamo così. Partiamo da chi sono solitamente i vostri clienti tipo. Così vediamo chi sta guardando, magari si identificano il cliente tipo. E se lavorate solo con clienti che hanno più di 10 milioni di dollari, saranno pochi i miei ascoltatori, forse, che vi potrebbero contattare. È un mix. Con italiani, finora è stato un caso. Sì, sì. Abbiamo lavorato poco. Eh sì, perché non vi siete focalizzati sul mercato italiano, al contrario di altri che fanno quel tipo di strategia. Voi siete aperti. Sai cosa? Noi preferiamo fare un network personale, magari partecipando a eventi, business launch, piuttosto, non lo so, altri tipi di eventi dove fai networking, dove conosci o ti presentano persone in maniera diretta e da lì crea una relazione. Certo. E poi dopo che hai una relazione hanno una necessità che tu puoi eventualmente andare a coprire. L'e-generation sì, nì, la facciamo, perché comunque è presenza sui social. Tu lo sai, è importantissimo fare social media marketing, è fondamentale per un'azienda, no? Alimenti, no? Però finora così credo che non abbiamo venduto niente dai social fino ad oggi. Magari lo faremo. Finora quello che abbiamo venduto è o dai listing che mettiamo, perché noi il 90% del nostro fatturato ancora è legato al secondary market e proprietà pronte. Tu puoi mostrare. Diciamo il classico lavoro dell'agente immobiliare. Adesso iniziamo a fare off plan, ma offrendolo a clienti che già sono con noi. Ok. Quindi c'è un'opportunità in cui noi crediamo fermamente, metteremo i nostri soldi e diciamo, ti interessa questo progetto? Guarda che è bello per questo motivo, il developer numero uno, e i prezzi partono da. Il nostro cliente è tipo, a me piace di più parlare con gli investitori, quindi che guardano i numeri. Ok. Invece per esempio Ilo, che ha molta più pazienza di me, magari lei ama anche andare in giro a mostrare proprietà pronte, agli end user. E certo, a chi la cerca per se stesso deve viverci. Noi diciamo siamo un mix tipico, uomo più strategia, più diciamo tutte razionali, io invece più emozioni, un po' così. Però sicuro questa è proprio la strategia vincente, no? Di essere voi in coppia appunto, perché siete complementari. Sicuro. Sì, questo la vedo una cosa. Ad esempio, Ilo c'è dei clienti, che sono, tanti sono russi, nel suo caso, o comunque paesi russofoni. Sì. Io invece finora ho venduto a gente con qualunque nazionalità, anche un paio di italiani, ma soprattutto a persone da ogni parte del mondo. E quindi sì, il mio prodotto però sì, è più un prodotto da investimento. Io finora ho fatto medio come livello, livello diciamo di prezzo. Eh, lì volevo arrivare, vai. Parliamo di numeri. L'hai presa larga. Sì, livello medio. Eh no, perché eravamo partiti, adesso poi è facile divagare, ma stavamo cercando di magari dare, un po' così, giusto pur parler, qualche zona in cui voi credete, no? Come investimento. Poi ovviamente ci siamo persi, perché abbiamo detto, ah, dipende da tutto. Però quindi, tornando indietro, facciamo così, partiamo da, che sicuro qui se lo stanno chiedendo tutti, voglio investire a Dubai. Adesso ti contatta qualcuno dei nostri ascoltatori e dice voglio investire a Dubai. Secondo te, quant'è il minimo che serve per fare un investimento a Dubai? Perché ormai sui social ci sono tanti che fanno una strategia un po' più attiva sui social, al contrario vostro, ci tengo a dirlo, che se qualcuno vi cerca si accorgerà che non state investendo da quel punto di vista e ci hai anche spiegato perché. Però, poi c'è chi invece attrae, no? Con i contenuti che fa. E molto spesso chi cerca di attrarre in qualsiasi lavoro tramite contenuti, fa dei contenuti che, come si chiama? Il gancio. Quindi il gancio adesso è, ah investi a Dubai, bastano. Ho visto dei reel, guarda, qualcuno che diceva invece di comprarti, non lo so, la credit card per fare shopping, 5 mila di euro al mese, metti il down payment per un appartamento. Mi ricordo qualcuno. Te lo giuro. E questi non sono italiani, eh? Quindi non sto parlando degli italiani, se c'è qualche italiano con la cosa di paglia non eravate voi. In questo caso erano English speakers. Però veramente, cioè, la gente adesso pensa, e ogni tanto chiedono consigli a me, no? Perché poi io ormai sono l'amica di tutti. Facciamo così, lo dico io che non ho interesse. Secondo me, per un investimento decente, ecco, così le uso io le parole, secondo me più o meno per un one bedroom, sempre per investimento stiamo parlando, direi 200 mila euro almeno, sotto magari trovi degli studio. Però poi ovviamente devi compromettere, no? Sul building, sulla zona. Io direi che per iniziare, su quella cifra, che ne pensate? Non è lontano dalla... Sì, sì, minimo, a partire da... Sì, sì. A partire da... Diciamo che noi abbiamo venduto a qualche investitore con 250 mila euro circa, degli off plan, quindi... Ah sì, sì, off plan. Progetti in costruzione, quindi con piano di pagamento, quindi non devi avere subito tutta la cifra, ok? Di solito entri col 24, 20 più 4 di LD e poi c'è il piano di pagamento. 250 mila euro io lo considererei veramente il minimo per prendere una roba decente, quindi che io posso offrirti perché sono tranquillo, in una posizione non troppo defilata per dirla. Sì, sicuramente. No, perché sennò poi... No, sicuramente questa cifra non è una Prime Location. No, sicuramente non della Palma. No, esatto, chiariamolo. Sì, sì, sì. Ci sono eccezioni, Marianna. Conosci il progetto Seven Palme? L'hanno consegnato pochissimi mesi fa. Seven Palme, gli original price, quando il developer aveva lanciato, poi si erano fermati perché hanno dato precedenza a JLT dove c'hanno un altro progetto che è ancora in costruzione. Comunque lì poi hanno completato un po' il ritardo, però gli studio partivano da molto sotto il milione, ma perché erano stati lanciati un po' di anni prima, però sei sulla Palma, eh? Sì, è vero, è vero. Lo short term è a fuoco, fuoco, ok? È vero. Attaccato a Anakil Mall. Oggi uno studio lì, 1,5-1,6 sul secondary market pronto. Sono studi piccolini, 40 metri qua, 35, ok? Però se tu mi chiedi come lavorano quegli studi, noi abbiamo delle testimonianze di chi ce l'ha lì, lo studio, non è mai vuoto. Quindi quando hai con qualche eccezione la possibilità anche solo di aggiungere 50.000 euro, considerato il payment plan che quindi non li devi avere tutti immediatamente, io direi fai uno stretching, piuttosto vai con uno studio se c'è nel progetto, però vai in una location più carina. Però ci sono location che tu conosci bene come JVC o JVT o Arjan, dove tu tranquillamente una one bedroom la compri con questo budget e anche lì lavorano bene sullo short term. È vero. Perché Dubai offre tante opportunità. E anche le location che uno, la turista, considera così dove siamo, sullo short term, visto la quantità di turisti che ci sono, lavorano comunque bene. È vero, è vero, è verissimo. E questa è proprio la dimostrazione del fatto che bisogna affidarsi a qualcuno di cui ci si può affidare. Non è sempre facile scegliere l'agente giusto. Io credo che voi siate dei bravissimi agenti immobiliari e soprattutto delle persone squisite da quando vi ho conosciuto per quello che siamo qui, perché scelgo bene i miei ospiti, ci tenevo a dirlo. E quindi secondo me appunto di sicuro non potremmo snocciolare qualsiasi dettaglio del mercato immobiliare durante questo talk, ma secondo me così continuando a parlare si viene fuori che tipo di persone siete e qualcuno può capire se siete il tipo di agente che magari può fare al caso suo o meno. Qualcun altro avrebbe sicuramente risposto dicendo già guarda se hai 200.000 euro chiamami che ti vendo questa cosa. Sai cosa? Io e Ilo abbiamo un po' una selezione naturale per come siamo noi, perlomeno, come carattere. Non so se è giusto o sbagliato, non vado giù a dare giudizi su questo. Però ci sono circa 180 developer, sapevi? No, non avrei mai detto così tanti. Attivi per ora su Dubai con dei progetti appena consegnati o in corso di lancio. Però quelli che andiamo a vendere davvero saranno sette e ottonomi. Quindi non andiamo ad azzardare più di tanto. Cioè andiamo a conoscerli, vediamo lo storico, vediamo se hanno già costruito, vediamo cosa stanno facendo e poi offriamo. Quindi la scelta, adesso senza fare nome con io, la scelta nostra non è offro quello su cui ho x% di commissioni piuttosto che no e mar no perché danno la metà. Devo per tirarlo fuori io questo discorso. Il developer più è forte e meno paga l'agente, giusto o no? Perché non ha bisogno. Allora in Italia secondo me tra l'altro tanti che ci stanno ascoltando non lo sanno ma praticamente qui a Dubai i developer pagano una commissione agli agenti per i progetti off plan. Bisogna dirlo perché è questo che stava spiegando adesso Riccardo. Ci sono agenti, fanno i venditori proprio quelli senza penire sulla lingua che pensa al suo guadagno e preferisce offrire progetti dove lui guadagna di più. Anche perché poi magari oltre a prendersi il 10% dal developer si prendono anche la commission dal buyer che non sapeva. Invece voi mi avete fatto anche tra l'altro qualche nome che ora non possiamo fare di qualche developer grosso, molto conosciuto, con cui voi non lavorate. Mentre tanti altri ci lavorano perché appunto offrono commissioni più alte. Sì e hanno anche tanto stock e quindi diciamo viene un po' automatico. Certo, però questo fa capire tanto della vostra etica professionale, cosa che secondo me è importantissima. Il problema più grande è se tu pensi alla tua ripetazione, alla tua immagine, perché per noi Dubai non siamo qua per un anno. Per noi è un lungo viaggio, abbiamo la casa qua, abbiamo la bambina che aveva la scuola, creiamo rapporti, abbiamo questa città, quindi siamo qua per prossimi 10 anni e non vorrei andare da nessun'altra parte. Quando tu vendi una casa il tuo lavoro inizia appena venduto, capito? Quindi le persone ritornano, chiedono mille domande, anche se off plan perché non capiscono niente, non parlano inglese, non conoscono le regole, documentazione, domande legali, come funziona. Quindi il lavoro inizia lì, quindi se io vendo un progetto brutto e poi soprattutto tutti comprano per guadagnare. Se io già so dall'inizio che in questo progetto loro non guadagnano, ritornano da me e che mi chiederanno, Ilona vendiamo per favore, non ho bisogno di soldi. Io so che non potrò vendere, perché dovevo offrire questo. Ed è un discorso molto logico e mi stupisce invece, essendo qui da 10 anni, sapere che ci sono altri agenti immobiliari che non lavorano così. Cioè io la penso esattamente come voi, cioè la cosa più importante anche quando magari nel mio caso finisce un contratto con un cliente è lasciarsi bene sapendo che loro sono contenti di come hai lavorato perché o tornano loro o ti mandano altra gente. Invece mi stupisce, e poi la chiudiamo perché non vogliamo destare nessun polverone, però mi stupisce come invece tanti altri, in questo caso agenti immobiliari abbastanza rinomati anche, che sono qui sul mercato da tanto tempo. A volte ci sono diciamo clienti scontenti, poi le voci girano e questa è una cosa che ci tengo a dire a chi ci ascolta. Basta informarsi, chiedete, cercate online, chiedete su Google, contattate gente che vive a Dubai, che poi ovviamente a volte potrebbero essere solo voci di corridoio. A volte però basta andare un po' più nel profondo e ci si accorge che non è una voce di corridoio, ma ci sono dei fatti e magari la gente appunto vi dice cosa è successo e vi fa vedere delle prove. Quindi informatevi e su questi due garantisco io, però oltre a garantire io vi dico anche un'altra cosa, che se poi qualcuno viene a parlarmi male di voi io mi vengo a tirare le orecchie, sono vendicativa. Se vorrete magari lavorare o farvi semplicemente una chiacchiera con Ilona e Riccardo sarei felice di fare una presentazione, un'introduzione diciamo io, quindi mi potete scrivere alla mia email che è la solita mariannandubai.com, la trovate anche nella descrizione del video e io sarò felice di mettervi in contatto con loro che riserveranno un trattamento speciale a tutti i miei ascoltatori. Volevo dire una cosa molto importante che adesso è stato molto sul hype questi ultimi anni, sul flipping veloce. Ah giusto, il flipping, vero, vero, vero. Che è una cosa pericolosissima e quando sento quello che dicono agenti, mi vengono brividi, promettono alle persone che compri qua e avrai un ritorno di investimento, ti rivendo io dopo sei mesi avrai 10%, io dico ma in questa zona anche dopo quattro anni tu non avrai 10%, ci vuole un tot di anni quando ci sono tantissimi dettagli insieme e purtroppo le persone comprano, purtroppo credono che loro dopo tre mesi, dopo sei mesi, ancora non hanno iniziato neanche a scavare, loro credono che rivenderanno con profitto 10%. E purtroppo quello è un altro specchietto per le allodole che è stato utilizzato negli anni. Questo è pericoloso perché poi noi cosa succede, Marianna, riceviamo un sacco di chiamate, anche referral di questo tipo e ci dicono per favore rivendete che non posso più pagare perché non avevano neanche budget. Non l'avevano messo in calcolo di pagare magari fino alla fine del progetto. Che venderanno dopo sei mesi, che salirà il prezzo, non salita niente, loro devono pagare, non possono pagare, sono scontenti e lo rivendono anche sotto original price. Accade spessissimo. E lì ti fai male. Poi dico, tu come investitore non conosci Dubai, non c'è niente di male se non conosci Dubai, cioè non è che tutti possiamo conoscere un paese in cui non viviamo, giusto? Magari ci hai viaggiato quando eravamo turisti, pensavamo di conoscerlo un po' quando ci vivi, un po' diverso, no? Sul mercato, se tu vai da privato, no? E vai dentro un sales center di qualunque developer, giusto? Da quelli più noti a quelli meno noti. È normale che entri, dopo otto secondi c'hai un agente accanto a te, giusto? Certo. Perché fa il suo lavoro. Quindi quel dipendente che sta lavorando, se tu sei entrato, non lo so, in EMAR, farò un nome importante, ok? Ti venderà EMAR. È certo. Ti dirà dei numeri che magari, anche lo stesso EMAR, che è il numero uno, assolutamente, senza dubbio, no? Magari non ti può offrire. Però ti vengono snocciolati in uno, ti preoccupai, qua e là, in sei mesi, fai così, lo rivendi, sì, certo, lo rivendi. Sì, sì, sì. E non ti parlano dell'aspetto fiscale, poi magari ci arriviamo. Sì. E non ti parlano della location, faccio un nome di una location, è Mark Ricardbor, che secondo me è bellissima. Sì. E ha un mix tra marina e downtown, skyline, si vede tutto, aprirà la metro presto, eccetera. Comunque, ha dei pro allucinanti e io la vedo in estrema salita di prezzi, dal mio punto di vista. Non ho la palla di vetro, però dal mio punto di vista ci sono tanti motivi per cui i prezzi andranno ancora su. Ma se tu mi dici, faccio flipping su Mark Ricardbor, su un progetto nuovo, appena lanciato, io ti dico, no, non lo puoi fare lì. Ma come è Mar? Ma come è Prime Location? Sì, vero. Peccato che lanciano a prezzi molto più alti delle Ready Properties. Perché la tendenza è questa in questo momento. Quindi semmai, se vuoi fare un flipping, cercati con il nostro aiuto un Distress Deal sul secondary market da qualcuno che sta rivendendo prima dell'endover. E questo è uno dei trucchi che impari sulla vita reale. Trovi gli affari quando? Nei progetti che devono essere consegnati da qua a tre mesi. Perché? Perché spesso c'è un saldo importante. Quindi io come investitore, che noi abbiamo anche investito qualcosa, io vado a vedere questi progetti. Certo. Poi può essere Mar, non è Mar, però se la location è bella. E io so che l'original price è il prezzo a cui sto comprando e avvicino all'original price. A volte è anche un po' sotto. Ed era stato lanciato tre anni prima e adesso c'ho chi vende perché non riesce a saldare. E quello è il momento in cui si compra. Non per forza al lancio, progetto plan pronto fra cinque anni. Certo. Perché per adesso i prezzi sono abbastanza su e io non credo che andranno giù. Però se mi vuoi fare un flipping, una speculazione, io non vado a darti un prodotto in lancio. Invece ti do un prodotto appena lanciato, visto che voglio capire qual è il tuo obiettivo, quanti soldi hai, cosa vuoi fare con questo capitale, no? Se no li lasci in banca, giusto? Anche perché se sei residente qua le banche pagano abbastanza bene. Esatto, gli interessi. Ma se tu vuoi fare un'operazione speculativa, io ti do un prodotto. Se tu vuoi fare un'operazione invece di attesa, vuoi pagare il tuo payment plan, perché magari vuoi aspettare l'endover delle chiavi e quindi puoi fare il tuo short term, piuttosto che altro, io ti darò un altro progetto. Non sono tutti uguali. Sono tutti diversi. Poi se hai un milione di dirham, ti parlo di un progetto. Se hai tre milioni di dirham, ti prego, se hai tre milioni di dirham, ti parlo di un altro progetto. Bravo. Tipo in marina. Mi è piaciuto però, bello, un consiglio pratico che tra l'altro ho sentito in pochi dare. Ma quello è molto importante, cioè veramente è un momento fondamentale della storia del building, prima dell'endover, che poi è banale, però ci devi lavorare nel mercato per sapere. Mariana, tutti quelli che lavorano in real estate investono così. Sì. Tutti, tutti i grossi investitori. Magari non dicono ai clienti, non lo so, noi diciamo ai nostri clienti. Ho venduto anche diversi di stessi dai miei clienti che avevano soldi pronti ad investire subito. Però questo è il trucco, così guadagni, così fai il bel flip. Certo. No, tutti parlano di distress deal, ormai è diventata la parola dell'anno, però nessuno poi spiega effettivamente come si trova e quando è il momento. E poi non è semplice trovarli, perché di fatto è il lavoro sporco. Vabbè, certo. Cioè devi andare a fare scouting sul mercato. Certo. Quindi a contattare te e Marianna che hai l'immobile in Marina, ad esempio, e chiedere se lo vuoi rivendere. Certo. E c'è qualcuno che ti attacca il telefono. Ovvio, scusa, domanda per cento, penso che vi attaccano il telefono. E c'è qualcuno che ti dice, sì, ho bisogno di rivenderlo. E lì devi essere bravo a capire quanto ti dice, quanto ti vuole dire. Certo. Perché non è detto che all'inizio uno sconosciuto gli dicano, sai, ho problema a pagarlo. Certo. E non sai se c'è trattativa, se è davvero il prezzo di vendita. Però per fare un servizio di qualità al cliente, perché poi la gente è in mezzo, è cliente chi compra, ma è cliente chi vende. E beh, certo. Quindi devi cercare di stare in equilibrio per fare un servizio di qualità a entrambi. Cioè lavori per uno, ma lavori anche per l'altro. Spesso noi siamo buyer's agent and seller's agent. Ok? Non siamo separati. Quindi... Giusto. Colleghiamoci, visto che stavamo appunto già entrando nel discorso legislativo, perché questo è un altro discorso che non vorrei tralasciare. Nonostante ormai siamo andati abbastanza per le lunghe, sarà un podcast lungo, ma spero che c'è un bel po' di ciccia, quindi se lo guarderanno con piacere. Discorso legislativo a Dubai, per in questo caso ovviamente gli investitori italiani che ascolto nel podcast, che sono italiani. Perché non tutti sanno come ci si deve gestire l'investimento qui. È tutto legato alla tua residenza fiscale. L'italiano che ha residenza in Italia, se compra un immobile che viene consegnato, che viene consegnato, quindi deve essere finito, consegnato con title deed, deve pagare l'imposta patrimoniale sui immobili all'estero. Si chiama IVIA. Ok. E va dichiarata in un riquadro proprio di richiarazione di erediti. Quindi l'anno tra l'altro il governo l'ha aumentata, so, dallo 0,76 all'1,06. Ah, quindi. Così non ci facciamo mancare niente. Not good news, però è così. Ma è così, è così, l'hanno aumentata del 40%, ha fatto più 0,4. Quindi questo 1,06% è calcolato sul valore di acquisto. Ok. Se tu hai pagato 400 mila euro, sono 4 mila euro all'anno, che vanno pagati in dichiarazione. Ed è sicuramente qualcosa che bisogna calcolare quando si compra per investimento. Sicuramente impatta, è come un IMO. Eh certo. Però non si chiama IMO perché è sui immobili all'estero. Certo. Però tu da residente italiano lo devi pagare, lo dovresti dichiarare. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma lo devi andare a dichiarare. Gli affitti, qua non sono tassati. Certo. Però magari, se c'è l'italiano... No, in realtà sì, abbiamo 5% municipale di FI. Quello è vero, quello è vero. Però la municipale di FI, quella lì che c'è sul DEVA, sulla bolletta elettrica, Quello se è affittato, di fatto, la paga il landlord. Ok, perché qui a Dubai non è vero che non ci sono tasse, sono spalmate un po'. Sono chiamate diversamente. Esatto, sono basse, sono delle FI spalmate in maniera diversa. Però gli affitti, per esempio, tu sai che qui non si tasse il reddito d'affitto, giusto? A parte se non c'è un'azienda, adesso hanno messo il 9% sulle aziende. Ma da persona privata, no. Però se hai l'affitto, ma sei residente in Italia, è chiaro che ti si va a sommare i redditi. Certo. Sono redditi e li vai a sommare in dichiarazione. Io non faccio il commercialista. Esatto. Però fare delle domande al proprio commercialista, queste sono informazioni di base che puoi trovare su Google. Sì. Non sono informazioni difficili da reperire. Quindi prima di fare l'investimento, fatti i tuoi conti. Bisogna calcolare anche quello. E se ritieni di rimanere residente in Italia, sì, lo puoi comprare l'immobile, ma sei soggetto a degli obblighi di comunicazione. Però, ripeto, l'immobile deve essere pronto. Sì. Quello of plan ha un piano di pagamento e ancora non è una proprietà esistente. Quello non va dichiarato. Diciamo non è tuo. Si aspetta che non è pronto. È una cosa importante questo da sapere. Sì, sì. Perché un immobile in fase di costruzione non è un immobile pronto. Perfetto. Grazie mille di aver chiarito anche quest'altro punto. Ci dobbiamo salutare, ragazzi, purtroppo. È volato. È volato. Spero che sia volato anche chi ci ha guardato. Perché eravamo in due. È vero, probabilmente. No, e soprattutto abbiamo parlato di tante cose utili. Quindi io vi saluto e vi ringrazio di essere stati qui. Grazie a te. Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci avete guardato fino alla fine. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime interviste. Ciao. 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 Ciao.